Una domenica piena di vino e piena di enoturisti che hanno affollato tutte le cantine dal nord, dalla Daunia, fino a giù all'estemosalento. Quindi tutta la Puglia è stata interessata da questo movimento, parliamo di movimento turismo del vino, di enoturisti, quindi sia di persone venute da fuori dalla Puglia, ma direi anche dagli stessi pugliesi, che devono meglio conoscere i vini della loro terra. Allora questa occasione è sicuramente molto importante, permette a noi produttori non solo di far conoscere i luoghi, di spiegare un po' come ognuno di noi interpreta il proprio territorio, le proprie varietà autoctone e i propri vini. I risultati sono sempre in fase di crescita, questo sistema vitivinicolo continua ad avere un trend positivo, quando gli ordini e la commercializzazione, soprattutto nei confronti dei paesi esteri, continuano ad aumentare e questo sta a significare che finalmente il nostro prodotto è un prodotto di grande qualità. Dobbiamo naturalmente continuare con questo trend, cercando di supportare sempre di più le nostre aziende, con la possibilità di poter utilizzare la prossima programmazione economica per migliorare sempre di più, non solo la qualità, ma soprattutto l'attività di promozione e di internazionalizzazione, che è quella che permette di ampliare i fatturati alle nostre imprese, alle nostre cantine. E poi anche cercare, così come stiamo già facendo, di aiutare sempre di più l'agricoltore che continua ad esercitare attività che riguarda il sistema vitivinicolo. Abbiamo appena portato a casa il bando per la ristrutturazione degli impianti, abbiamo avuto 1140 aziende che hanno aderito a questo bando, così come stiamo mettendo a disposizione anche 600 ettari di diritti di rimpianti a riserva che avevamo in Regione, quindi è la prima volta che la Regione mette a disposizione soprattutto dei giovani, perché il 40% di questi 600 ettari verranno destinati ai giovani, il resto sarà messo sul mercato. E stiamo anche per evitare che avvenga il fenomeno di trasferimento di diritti di rimpianti, e abbiamo anche discusso nell'ultimo comitato vitivinicolo la necessità di dover interrompere il trasferimento dei rimpianti. Tutto questo per cercare di tutelare al massimo queste produzioni, questo settore che fortunatamente porta al primo posto la Puglia in termini di produzioni e quest'anno abbiamo superato anche il Veneto.